Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video particolare perché anche se non si sente proprio nell'aria l'atmosfera natalizia, io ho preso qualcosa proprio per addornare la mia casa e far sentire anche un pizzico diciamo di spensieratezza che ci regala di solito il Natale e ho deciso di andare dai cinesi e prendere qualcosa che mi poteva piacere e quindi vi voglio far vedere cosa ho preso. Allora queste due queste cose che vi sto facendo vedere io li metterò nella mia scala perché ho dei ripiani nella o dei ripiani dove poter mettere qualcosa di particolare perché sto facendo dell'erbetta e metterò lì questi oggetti. Questa è una specie di lanterna, adesso ve la faccio vedere allora questa è la punta della lanterna, ve la faccio vedere, che ve la giro ed è così poi si sale, 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 sale e questa è la fine della lanterna. Se posso vi metterò anche la foto ed è molto molto bella, ha questo effetto della neve e poi qua sotto, vabbè ve lo faccio vedere così, si possono inserire le batterie e illumina poi tutta la scala ed è una cosa che adoro in assoluto e voglio mettere proprio questo vicino diciamo al portoncino dove c'è la statua di padre Pio e metterò questo come ornamento oltre a questo, vediamo se spero che non cabe, oltre a questo ho preso un altro ornamento che sarebbe questo, adesso lo togliamo dalla confezione sono delle cose molto molto belle e particolari sinceramente e ci vogliono, sinceramente ci vogliono perché siamo troppo troppo trissi in questo periodo, quindi non si sa nemmeno se possiamo festeggiare con i propri parenti e quindi ho deciso di farmi dei regalini e ho preso questo, è sempre una specie di lanterna ed è molto molto bella anche questa, è così e anche questa ha l'ausilio delle batterie qua sotto, ovviamente si apre, aspettate perché come vedete ci sono le lucine, vedete ci sono delle lucine, voi potete utilizzarlo così o mettere una candela all'interno, io preferisco utilizzarla con le lucine e poi li potete anche togliere, vedete ci sono anche le lucine che si possono anche togliere e inserire quelle nuove oppure colorate che siano, io preferisco averlo così proprio nella forma più grezza, c'era anche bianco ma mi piaceva proprio il fatto che ha tipo la neve qua sopra, speriamo che non si stacca, comunque la neve qua sopra e tutto il resto in questa maniera, devo dire che mi piace tantissimo ed è molto molto carino. Poi, sempre per quanto riguarda i ripiani che ho nella scala, andranno anche, non lo so se li metterò tutte e due o una, l'altra volta vi avevo fatto vedere questa, come si dice, fatina, una specie di fatina che è molto molto bella, l'altra volta ve l'ho fatta vedere con il rosa e adesso l'ho presa con il bianco, questa l'avevo anche regalata a Sabrina Bambi e l'ho preso proprio la fatina nel colore bianco che è molto carina e molto bella come cosa, mi piace tantissimo, questa non si illumina, è semplicemente una fatina così con il cappello ed è molto molto bella. Poi, ovviamente, queste non so se metterle, allora, io volevo fare una cosa qui dietro dove c'è la torta, togliere la torta per questo periodo e mettere delle cose ovviamente natalizie e quindi ho preso, oltre ai Babbi Natali che ho preso l'anno scorso, che uno le ho regalato anche a Fabiana Lizzi, a Fabi, avevo preso questa che è bellissima, cioè, ditemi voi se è una cosa spettacolare, veramente spettacolare, ed è questa bambolina che adesso vi faccio vedere, sperando che si veda, perché siamo con tutte le luci sparate, vedete che ha la luce, non so se si vede che ha la luce, sì, si vede, dai, e ho preso questa, questa ha l'asticina dietro, vedete se è spenta, così è accesa, così è spenta, e ho preso questa, mi piaceva tantissimo con queste treccioline, così, e poi, devo dire che queste cose mi piacciono tantissimo, ed è, l'ho presa una con il bianco, da mettere proprio qui dietro vicino a Babbo Natale, e poi ho preso un'altra con il rosso, c'era anche con il rosa, ma non mi piaceva, non mi diceva niente di che, e questa invece è con il rosso, e ve la faccio vedere anche questa accesa, ed è così, anche come dei regali sono molto molto carine, vedete, è così, è accesa, si vede anche nella parte di dietro. Questo, diciamo, l'ho preso per ornare, per fare delle cose qui nella mia stanza make-up, e far capire che è il periodo di Natale, sinceramente mi piace come cosa, però ovviamente ditemi voi se vi piacciono queste tipi di cose natalizie, non abbiamo finito, non abbiamo finito. Poi, prendiamo il saccheton, ho fatto alcune spesucce, tra cui alcune cose che riguardano il mio postazione, allora, per prima cosa ho scelto questo bidoncino, scusate la polvere, ma qua la polvere regna rovana, rovana, regna sovrana, la polvere regna sovrana qui a casa mia, perché siamo in un periodo di spossamenti particolari, quindi non si capisce niente. Ho preso questo bidoncino, per quanto riguarda i dischetti, tutto quello che devo buttare, e l'ho preso nero, perché super giù la mia stanza è composta da marrone e nero, e quindi l'ho voluto prendere nero, da mettere qui proprio sulla scrivania e da gettare tutte le cose, il coton fioc, oppure i dischetti di cotone, tutto. Mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Non mi ricordo i prezzi, non me lo dite, perché io alcune cose le ho prese all'ingrosso e le altre le ho presi proprio dai cinesi, quindi non ricordo, non ricordo, non ricordo. Poi andiamo avanti e sempre per quanto riguarda, aiuto, il Natale ho preso queste corna, cioè queste corna di renna, che sono molto particolari, sono tutte glitterare, cioè con le pagliette, sono molto molto carine. Adesso le apriamo e questo ovviamente le utilizzerò per quanto riguarda i video, perché mi piace tantissimo, sapete tutti che io faccio la collezione per quanto riguarda i cerchietti e quindi le utilizzerò nei prossimi video, cioè guardate, guardate, faremo dei make up o delle cose con le Makeup Angels, quindi sicuramente le utilizzerò tantissimo. Poi, sempre per quanto riguarda il Natale, queste ve li faccio sbirciare, ma non so se già saranno spedite quando metterò questo video, sono questi due gnomini qua e sono due, quindi vediamo chi è più intelligente. Sto scherzando. Allora, poi ho preso questi due gnomini, che di norma sono per fermare la porta, oppure per abbellire cucine o vari posti. Sono due perché le manderò a due persone con un pacchettino, perché abbiamo già messo delle cose da parte, quindi questi due andranno, uno non posso dirlo e l'altro non posso dirlo nemmeno. Quindi saranno tutte e due spediti. Poi, mentre che c'ero, ho comprato questo che è uno scaccia comidoni, cioè una cosa che la mia amica mi ha detto compralo che è buono! E quindi l'ho preso ed è questo qui, che serve per i puntini neri. Poi, questo non c'entra, poi ho preso questo tappo per il lavandino, perché uno che avevo si era rotto e quindi mi serviva proprio un tappo per il lavandino e ho preso questo qui con la tartaruga, che è molto molto carino. Cioè, ma che carino! La vedete la tartaruga? Qui abbiamo la tartaruga. È davvero molto carina, guarda i suoi occhietti! Sono bellissimi! Nel frattempo, ditemi come vi trovate con la posizione così frontale della fotocamera, perché l'ho cambiata e quindi volevo saperlo. Poi, un'altra cosa che devo regalare è questa agenda, che è del 2021. Questa l'ho presa in rossa perché alla persona che lo devo regalare gli auguro tanta fortuna e il rosso scaramantico e quindi spero che gli porta veramente, veramente tanta, tanta fortuna perché ne ha bisogno. E quindi ho preso questa agendina, non la apro perché ovviamente è un regalo. Poi, ho preso un mestolo di legno per dare botte, no? Non è vero. Ho preso un mestolo di legno perché è l'attrezzo che utilizzo tantissimo in cucina e quindi ne volevo uno nuovo e ho preso questo. Poi, per girare la carne o altri tipi di pietanze, ho preso queste due forchettans. Vedete? Sono delle forchette che mi servono per o girare la carne nel, diciamo, nel fuoco, sul fuoco della griglia, oppure non lo so per grattarmi, forse no. Comunque, mi piaceva e quindi ho voluto prendere questa. Non so nemmeno dove posizionare tutte queste cose. Poi, un'altra cosa che riguarda la cucina, credo, sì. Ho preso questo rotolo da mettere, mi piaceva tantissimo il fatto che ha questi colori tenui, ma mi sa che ne prenderò altri proprio per metterli qui nella mia postazione. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere. Di norma si utilizza tipo come una tovaglietta, sapete quelle che fanno colazione e utilizzano queste tovagliette così, di questo materiale, ma io la volevo utilizzare come tovaglia dove appoggiare la macchinetta del caffè. E poi invece, siccome mi piace tantissimo come ci sta anche qui in questa stanza, li volevo prendere proprio per, diciamo, appoggiare tutti i miei dispenser in plexiglass, perché spesso graffiano anche i mobili, perché li tiro, certe volte li tiro solo mal testa e quindi volevo prendere altre di queste tovagliette. Allora, io non mi ricordo esattamente il prezzo, ma se non mi sbaglio nemmeno un euro, quindi ho preso questa. Poi, un'altra cosa che ho preso che non c'entra niente con quello che poi vi dirò dopo, è questo ed è un nastro biadesivo. Mi serviva perché devo fare delle cose e quindi ho comprato il nastro biadesivo. Questi invece che vi faccio vedere riguardano la mia postazione. La scorsa volta vi ho fatto vedere alcune cose che riguardano la mia postazione e siccome ho fatto dei cambiamenti ho preso altri oggetti, ve ne ho lasciati uno perché volevo farvelo capire com'erano. Ho preso questi contenitori in plexiglass, sempre dei cinesi, dove inserire i prodotti. Lo spessore mi piace perché è abbastanza un salto e mi serviva per inserire alcune cose. Ho preso anche questo qui di plastica, questi vengono utilizzati anche per gli alimenti, io li ho visti nel reparto cucina per quanto riguarda i cinesi e questo invece è molto più morbido, questa invece è una plastica più rigida, questa invece è molto più morbida, quindi la potete, diciamo, giostrare meglio nel contenere i prodotti all'interno. Ovviamente poi vi farò il video della room tour della postazione perché ho cambiato determinate cose visto che ho comprato un'altra cassettiera. Sempre per quanto riguarda la sistemazione ho preso questi, questi li potete reperire, se volete vi posso mettere anche dei link per quanto riguarda Amazon e AliExpress perché ho visto gli stessi contenitori anche venduti su AliExpress e anche su Amazon. Ho preso questi che sono questi contenitori di, questi contenitori, questi stecche di plastica e voi li potete utilizzare per quello che volete, per, diciamo, oggettistica, per cose intime, per prodotti del bagno o tipo, vedete, tipo mutandine, giseni, calze, eccetera. E queste sono delle stecche che alcune ragazze americane hanno acquistato in plexiglass. In plexiglass sinceramente non si possono acquistare perché hanno un prezzo esagerato. Io le ho prese in plastica, plastica dura, cioè per tagliare perché nella composizione che ho fatto per quanto riguarda i cassetti le ho dovuti tagliare perché, se non sbaglio, due, due di questi non entravano in base a come le ho messi. E quindi ne dovevo tagliare a due. È una plastica dura, quindi lo dovete tagliare con una forbice abbastanza grossa o una pinza, non mi ricordo come che si chiama. Comunque ho utilizzato queste stecche, ne ho preso un bel po', infatti ne ho lasciate alcune di scorta per chi non si sa mai se deve ingrandire la postazione. E ho preso queste, entrano benissimo nelle cassettiere e sinceramente mi sono trovata benissimo. Poi, le ultime due cose per quanto riguarda la postazione sono questi contenitori qua e sono dei porta posate, vedete, sono delle porta posate per quanto riguarda se li dovete mettere nel lavandino e tutto. A me piaceva tantissimo perché hanno questo scompartimento che voi potete togliere e lasciare il cestello in questa maniera. Io ho tanti portapennelli, tra cui questi qui rotondi che li ho anche regalati all'Alizzi. Poi ho questi qua per quanto riguarda l'IKEA e poi avevo preso anche questi qua per quanto riguarda MUJI, avevo fatto un ordine. Allora, ci sono dei pennelli che io utilizzo spesso e sempre. Volevo avere questo, ovviamente questo lo toglierò perché è un adesivo, volevo avere questo tipo di contenitore per metterlo qui nella postazione e prendere direttamente i pennelli che utilizzo sempre e quotidianamente per quanto mi riguarda. Invece gli altri li volevo lasciare proprio nel contenitore là dentro per non far sì che faccio avanti e indietro perché in questa postazione con questa scrivania ho degli scomparti e quindi li posso utilizzare benissimo per mettere questi e negli altri invece metterò le matite che ho messe in vari posti. Ho comprato questi perché se devo sistemare di nuovo la cassettiera comprerò altri scompartimenti, non lo so perché mi vedo messa diversa. Vabbè, comprerò altri scompartimenti per sistemarle in modo diverso. Comunque poi vedrete il room turn e quindi, room turn, vedete la sistemazione e quindi poi vedrete come ho deciso di sistemare la mia makeup collection. Sempre per quanto riguarda alcuni acquisti fatti per la casa ho acquistato anche questa che è una grattugia, normalissima, però le altre volte avevo preso quella più sottile, quella più fine e sinceramente alcune volte si incantava, non lo so, si bloccava e quindi non riuscivo a grattugiare niente. Ho voluto prendere questa qui che è molto molto più grande ed è molto, credo sia molto più resistente. Allora, è fatto in questa maniera, qui mettete il formaggio, qui chiudete con la graffetta e qui utilizzate la grattugia che la potete anche utilizzare se è troppo forte per non rompere questa parte che è la parte che si rompeva più facilmente. Potete anche girare in questa maniera, cioè questa manovella in questa maniera per far sì che si grattugia il formaggio bene. Poi di solito cosa fanno, perlomeno mio marito cosa fa? Mette la grattugia in questa maniera e inizia a grattugiare e poi rovescia in questa maniera il formaggio e lo mette proprio su tutta la pasta. Lui piace fare così e quindi l'ho presa e sinceramente questa è molto più resistente di tutte le altre grattugie che ho acquistato nei miei vari acquisti sparsi. Per quanto riguarda questo video è tutto, che dirvi di più? Spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti, non era un gran che, però cerchiamo di sentire un pochettino l'aria natalizia che non si sa se verrà o non verrà, non si capisce niente, però cerchiamo di essere, diciamo, cerchiamo di essere positivi perché non stiamo passando tutti, proprio parlo di tutti in generale, un bel periodo, quindi stringiamo i denti e auguriamoci, diciamo, una buona fortuna e speriamo che questo passi presto, in poche parole. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, pollice a te! E se vi va, ci vediamo al prossimo video! Ciao!